Il viaggio ai mercatini di Arezzo si stava per trasformare in una tragedia, a scrivere fortunatamente un epilogo diverso l'intervento di tre giovani soccorritori. Un uomo di 48 anni, assieme alla famiglia, era infatti in coda a lungo il raccordo che dall'autostrada 1 porta al centro città. Erano le 18.20 dello scorso sabato, una delle giornate di maggior afflusso per le feste e natalizie, quando l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco improvviso e ha avuto solo il tempo di fermare l'auto in mezzo alla carreggiata. Provvidenziale l'intervento dei tre giovani, probabilmente operatori delle misericordie toscane, che si trovavano nell'auto dietro di lui. Senza perdere tempo hanno soccorso il 4010 in una situazione molto complicata, nel buio di una strada trafficata tra fari di auto e qualche goccia di pioggia. Il loro intervento, ha raccontato la dottoressa Katia Bacchini del 118 di Arezzo, che è intervenuta sul posto, è stato fondamentale. Hanno immediatamente chiamato l'emergenza ed effettuato tutte le manovre necessarie e lo hanno fatto con grande sangue, freddo e professionalità. Al nostro arrivo, prosegue la dottoressa, abbiamo defibrillato l'uomo direttamente in strada, ha ripreso a respirare e questo ci ha permesso di trasportarlo in codice 3 in ospedale in tutta sicurezza. Questo evento, che fortunatamente possiamo raccontare, aggiunge poi il direttore della centrale 118 Simone Nocentini, dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'importanza della formazione e della preparazione, che deve coinvolgere sempre più persone possibile. I primi minuti che seguono un arresto cardiaco sono infatti fondamentali.